was up signori benvenuti in questo nuovo video io sono il vostro jk97 che ripalla ciao io sto guardando di là ok ma voi mi vedete di qua bene lasciamo stare benvenuti in questo nuovo video prima di iniziare con gli fuck you time episodio numero 4 devo ringrazio un sacco di persone tra questi ci sono sono un bot bello de casa 09 davide denghi 46 16 it's vergers m gm never surrender ricordiamo poi in grande nordiz 27 che ho già fatto una live diverse live prima della wwe gioco adesso poi ha fatto una live di fortnite e poi jk r poi jk r in mario youtube e poi gamer horn e un sacco di altre persone ma iniziamo subito con mi fai più time che risponderà subito alle vostre domande ci scrive il buon fabbro per chi non lo conosce se andate sul suo canale il buon fabbro lo saluto ciao fabbro ci scrive gk qual è la tua città italiana preferita la mia città italiana preferita lo sapete è milano però milano non mi piace molto quindi però milano tutta la vita quale e poi mi dici che se pensi gk qual è il tuo gelato preferito gusto di gelato preferito il mio gusto di gelato preferito sono non ne ho uno ma ne ho ne ho diversi tipi sono stracciatella yogurt e nocciola o nutella ecco la pasta tipo di pasta preferito è carbonara signori chi non ha mai mangiato una carbonara se ti piace la carbonara e ti piaceranno i pokemon e dragon ball lascia un like perché pokemon dragon ball perché adesso ci chiede qual è il tuo tipo di pokemon preferito allora devo precisare una cosa io ho giocato a pokemon go soltanto perché ho scoperto dal buon fabbro perché c'era il il raid di rai quasi no che hanno aggiunto e dove c'è ralz vabbè questi pokemon ecco e quindi ho detto perché non provare perché non di giocare e quindi ci gioco a pokemon go comunque il mio pokemon preferito rimarra sempre charmander e sono ottimo rosso perché se lo vuole chiedere il personaggio preferito di dragon ball è goko mi dispiace no non è leggera mi dispiace no la trasformazione di goku preferì di goku preferita è oltre al sintro perché a parte con la scia celeste pochino bianco sul bianco è bellissimo quindi ho testito tutta la vita e poi c'è un mio amico che si chiama andrea che lo saluto ciao andrea che mi chiede cosa ne pensi del governo attuale ma io cosa dove risponde no cosa dove risposto che purtroppo se dico se c'erano più posti di lavoro non c'erano tutta questa gente non c'erano tutta questa gente che purtroppo c'è gente che si lamenta per mancanza di posti di lavoro ecco vedete questo è la rete del dopo dopo fabbro e la rete del letto ok la dog si perché io sto sul letto castello qua di sopra e c'è il mio c'è il letto di mio fratello io dormo giù ok a chi non si lo stesse chiedendo questa è la sciarpa attuale di di questa soggione del lecce perché l'avevo poco e fa caldo ragazzi ci sono minimo 40 gradi fuori dove sta il lecce sì io ti fo lecce forse lecce ecco lo faccio pure vedere guarda cazzo cazzo di bud guarda lecce 1908 sì quindi se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale arriviamo 100 iscritti grazie a voi sono arrivato 86 ringrazio a tutti quindi ragazzi se questo video supera 10 like sfiderò una persona che io conosco a calcio sì perché vedete com'è ciao un attimo un attimo un attimo devo vedere una cosa no ragazzi mi s- scusate scusate sono il suo conto adesso non c'è l'anno nascosto non c'è il pallone per chi si stesse chiedendo era andato a vedere se c'era il pallone da calcio del Baccellona perché si, qua a casa mia ho un pallone da calcio del Baccellona però non c'è, adesso non c'è vabbè, ci vediamo al prossimo video qui da GK97 ciao ciao